Ringraziamo sinceramente per il premio che ci è stato attribuito da Lega Ambiente e PFC alla nostra società e ai nostri prodotti. Noi siamo una società biopapo, è una società che produce contenitori per alimenti biodegradabili, compostabili e riciclabili che resistono dalle basse alle alte temperature. Quindi sono utilizzabili nel freezer, nel frigo, nel forno microonde, nel forno tradizionale. Questo ci ha permesso di affermarci sul mercato anno dopo anno anche a livello internazionale. Quindi siamo contenti per questo riconoscimento, non solo per il riconoscimento in se stesso, ma anche perché c'è la riconferma che abbiamo visto oltre 20 anni fa, la strada giusta, abbiamo intrapreso la strada giusta. Grazie ancora. Grazie.